salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di mondo dei simulatori oggi vi spiegherò come usare un secondo schermo su eurotrack simulator 2 per implementare funzioni come il gps o una dashboard generale che vi permette di monitorare tutti i dati del vostro camion in tempo reale senza avere ud sullo schermo principale prima cosa da fare è installare sim hub il software che ci permetterà di implementare questa funzione sul simulatore link del programma in descrizione e al termine del download e dopo aver installato il programma attraverso il file eseguibile assicuratevi di aver connesso tutti e due i monitor al computer ed avviate quindi sim hub qui avete a disposizione le varie dashboard da utilizzare e che sono situate nell'apposita sezione del programma che è dash studio sceglietene una a proprio piacimento ad esempio di default c'è quella del gps che vi permette di avere la mappa in tempo reale con la posizione del vostro mezzo in descrizione vi inserisco anche un link con altre varie dashboard del cruscotto che dopo aver scaricato per trovarvele su sim hub dovete inserirle in un'apposita cartella situata nel percorso programmi per 86 sim hub dash templates ed infine euro track quindi inserite i file contenuti all'interno della cartella zip all'interno di questo percorso ora ricordatevi prima di tutto di settare il vostro schermo principale dove verrà visualizzato euro track facendo tasto destro col mouse sul desktop dopo di che impostazioni schermo ed infine imposta come schermo principale poi su sim hub scegliete la vostra dashboard preferita e cliccate su in un monitor secondario qui scegliete lo schermo dove andrete a visualizzare l'ud che ovviamente sarà quello che non avete impostato come schermo principale da windows infine avviate euro track simulator 2 scegliete il vostro camion mettetevi in strada e sim hub comincerà a funzionare in maniera automatica non appena sarà stata caricata la partita vi ricordo inoltre che nonostante voi magari non avete un vero e proprio monitor potete utilizzare sim hub anche da cellulare come potete vedere da questa foto l'operazione è molto semplice ed il software vi spiegherà passo per passo cosa dovete fare ricordo infine che questo software può essere utilizzato su tantissimi altri simulatori come ad esempio assetto corsa cari ragazzi un saluto dal mondo dei simulatori ciao a tutti